eccoci qui appena finita la partita appena finita n'è mai iniziata porca troia porca perché la roma questo è mio buono l'altra volta meno sorpreso stavolta m'hanno deluso perché oggi siamo stati altamente imbarazzanti a dir poco porca puttana ma affanculo cazzo quest'altro che mettono le partite a orari che indecenti che se suda senza fancazzo figuriamoci a roca alle cinque e mezzo porca da quella grande puttana dico io ma per carità per carità però anche voi altri ragazzi un po de voglia metteteci alla perché se noto qui salutiamo anche non solo la champions league quello ormai è già partita le suda un bel pezzo ma stanno salutiamo anche l'europa league e non parla della coppa che bisogna fare ad agosto ma il piazzamento perché tu qui il milan intanto vince l'atalanta chi appela porca troia la lazio vince a culo ma vince porca troia stanno non c'è va bene un cazzo e ci siamo rotti coglioni come al solito perché tanto le stagioni della roma ormai hanno delle stagioni anonime sta passavo e riguarda tutto onestamente porca troia perché da qui già che la situazione è tragica e non parlo del calcio perché stanno a riscoppiare altri focolai in giro per tutta l'italia anche paesi esteri eccetera eccetera dopo ci si mette anche voi altri sopra carico l'asse da 11 porca troia quindi c'è poco da fa oggi proprio pessimi tutti tranne mirante che ha fatto qualche periata buona ma il resto non salvo proprio nessuno driver tenullo zappa costa che gli fa l'assist porca troia ogni ogni cazzo le partite gli regaliamo un gol l'altra volta c'è bene che nemmo ribaltata stavolta mi canne sempre natale porca troia regaliamo i gol regaliamo tutto porca puttana rebic che in forma strepitosa da che a inizio campionato insegnava ma adesso segna sempre quindi migliore in campo sicuramente dalla parte del milan sempre con cialanogo porca troia stanno non c'è va bene niente mi sembra stagione anonima dell'anno scorso più o meno la stessa porca troia e chi aveva detto che questi erano dei mollicci dei mollicci indegni petrachi chi paga petrachi perché tu qui a roma paga sempre il ds non paga nessun altro mai perché la colpa è sempre solo dei direttori sportivi di quello di quell'altro e nessuno si assume la cazzo di responsabilità desta squadra porca troia a mo ci siamo rotti le palle ce l'ho come quelle dei dei tori porca troia e basta ma ci siamo rotti i coiuni rispetto per roma rispetto per roma e per la roma porca troia questo è un messaggio diverso verso gli alti lidi della presidenza che presidenza chiamare la presidenza ragazzi mia è proprio un parolone da dizionario treccani porca troia e niente invece siamo rotti i coiuni ormai queste stagioni hanno brutte sempre le stesse puffiamo sempre le stesse cose eliminazione coppa italia eliminazione quella eliminazione qual altro un campionato fai ride sembra di mettere una videocassetta dentro il registratore e di vede sempre la stessa stagione mai con con questi indegni al comando t'hanno levato i sogni t'hanno levato tutto t'hanno levato tutto e t'hanno lasciato tutti in mutande porca troia imbarazzanti come oggi perché oggi ti non hai giocato un cazzo e min ha vinto meritatamente sottolineiamo meritatamente porca troia e ci siamo lotti le palle porca troia e fa figurarci a destra manca che vuoi di nient'altro c'è nient'altro a di perché la parità se ti metti sul letto la stessa cosa porca troia dormivi come in giro era meglio secondo me faceva meglio cosa porca tutta tra l'altro in caldo della madonna e quindi ancora di più a notte non si dorme niente proprio un caldo aberrante proprio porca troia migliori in campo milante per la roma secondo me dopo lo scioglione che fu al giornalista onestamente quello che mi ha purtato che ho purtato vedi secondo me e per minaccia la noglu e ovviamente rebic ma però ragazzi se non ci svegliamo tanti saluti non solo all'europa league ma tutto prossima non fanno nessuna coppa è meglio secondo me porca troia e niente questo è tutto appuntamento alla prossima e sempre 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 forza l'uomo